Sanasini, Vescovo di Chiavari, la Chiesa Cattolica ha fortemente voluto questa manifestazione insieme ad altre comunità religiose. Il significato della giornata di oggi? Per essere sinceri devo dire che il primo impulso è partito dalla comunità musulmana di Mezzanico. Dopo gli eventi di Parigi hanno chiesto di sentirsi sostenuti nella loro affermata volontà di pace, nel loro rifiuto della violenza e della volontà di essere coralmente partecipi della vita, della pace di questa nostra terra. A pochi giorni dal giornata della memoria una iniziativa che vede accomunati rappresentanti di varie religioni, fedeli di varie religioni nel nome della pace. Sì, io ho ringraziato il rabbino di essere venuto da Genova perché questo ci consente anche appunto di unirci a tutte le iniziative che sono state fatte per ricordare l'evento luttuoso della Shoah. Credo che siano tutti i eventi, quelli violenti, quelli contro l'umanità che vanno insieme deprecati per affermare positivamente la volontà di rispetto dell'uomo nella crescita della pace. Molte grazie, allora buona pace.